ciao ragazzi buongiorno un saluto dal talfone allora vi faccio questo piccolo video per voi ragazzi di youtube in quanto sicuramente molti di voi avrete avrete visto che io non sto facendo più niente sul tubo in questo periodo diciamo che per quelli che voi mi conoscono e per quelli che non mi conoscono la situazione mia al momento di salute non è il massimo ok per cui mi sto concentrando sul canale viola a fare delle live li abbiamo finito in questi giorni ieri se non mi sbaglio aliens dark descent che per una serie di motivi stavo male facevo le live da cinque ore o altro non non ho più ricaricato su youtube ok e me ne scuso però adesso sto comportando una una piccola campagna con la modalità nuova di di dune spice wars con gli arconner che la modalità conquista ok mentre aspettiamo che arriva che è scabaldus gate ad agosto il quale verrà streamato in live sul canale viola e poi portato su youtube con 12 giorni di ritardo ogni live perché per chi non lo sapesse twitch a 24 ore di tra virgolette proprietà dei contenuti dove io non posso caricarli da nessun'altra parte live la mattina non so in teoria l'idea è fare 9 11 4 e 14 16 più orari delle live non chiedetemi altri orari perché solo quelli riesco a mantenere e non è detto che riesco a farla la mattina la posso caricare finita la live 24 ore dopo per cui se finisco le 4 del pomeriggio la live che ho registrato lo posso caricare il giorno dopo dalle 4 e un minuto per farvi il suntone ovviamente facendo due live al giorno verranno caricate su youtube più lentamente ma verranno caricate tutte poi vabbè qua sopra c'è l'obiettivo del canale viola se volete venire a darmi una mano ad abbonarvi di là mi fa comunque un piacere anche perché con prime la sub è gratuita faccio un po il money grabber però vabbè ci sta e per cui per agosto la situazione sarà questa ok adesso pian piano comincio a portare già sto pomeriggio alle sei avrete la prima parte della della live di dune considerate che l'ho registrata con qualche problema audio era un po così un po una prova intanto ve la butto fuori oggi che alle due appunto vado in live sul canale viola la registrerò un po meglio e vi porto fuori praticamente la live fatta non dico bene ma benino ecco diciamo da da 6 piccato a livello audio poi ovviamente il live che chiariamo del più del meno si parla del più del meno per cui praticamente vi recupererete la live fatta al giorno precedente per agosto il programma e bad newsgit 3 anche perché poi a settembre s esce starfield che il buon tarfone ha già qua eccola qua ok c'è già è pronta devo solo poterla scaricare che esce il 6 settembre baldus gate 3 esce se lo trovo perché totalmente tanta roba eccolo qua baldus gate esce ufficialmente il 3 agosto per pc i bastardi hanno fatto l'accesso anticipato per le console al 31 di questo mese è un po miro del culo però vabbè raga me lo giocherò alla mia maniera nel senso che la quest principale è l'ultima cosa che mi interessa io mi farò tutto per cui preparatevi già psicologicamente io me lo voglio spolpare tutto sia questo che starfield per cui non farò la run come tanti mi avevano chiesto mi avevano suggerito all'epoca con august legacy fai la missione principale il resto fatta la teto no se io mi voglio giocare un gioco me lo gioco la mia maniera so che a livello commerciale vado totalmente controcorrente a mio sfavore però ragazzi io sono fatto così le live le faccio per stare in compagnia con voi e per condividere la mia passione portare i miei contenuti e se possibile sapete al momento le mie problematiche fisiche mettere via qualche soldino in più ok poi a me basta solo anche che passiate e ci divertiamo assieme baldus gate 3 uscirà in italiano al day one confermato dall'aria per cui tranquilli io mi leggerò tutto perché voglio leggervi tutto e comunque me lo voglio giocare bene ciò già in mente il personaggio che voglio fare hanno sbloccato anche il multiplayer e mi scusate il multiclasse cose che prima non si poteva fare per cui la buona dis mago chierico arriverà me la me la sto già preparando sul sul sull'editor di creazione tutto in modo che al day one saltiamo completamente l'editor e noi cominciamo da giocare in modo che sia già della faccia ovviamente vi faccio vedere ovviamente l'editor e tutto però caricherò il il personaggio già pronto in modo che non perdiamo tipo due ore di tempo per fare solo l'editor detto questo scusatemi se sono sparito ma raga ve lo può dire anche mia moglie se vuole farsi vedere due secondi ma penso di no visto che non mi sta cagando minimamente è ho detto che puoi confermarlo anche tu che questo in questo periodo qua sta una merda le sue versione è non si sente devi venire qua e farti vedere no niente comunque detto che conferma e per cui ragazzi mi sono spostato di là perché a livello di difficoltà di programmazione di editing di registrazione di qualsiasi cosa ok per me il canale viola più semplice mi permette di avere più interazioni con voi perché abbiamo giocato e stiamo ancora giocando adesso su un attimo fermo a seven day to die con le interazioni con la chat per cui più partecipate più siete presenti più potete ammazzarmi o più potete aiutarmi per cui è comodo anche questa cosa qua da fare assieme e niente io ho detto tutto sette minuti che avevo rotto i coglioni i total war al momento mi viene il vomito solo ad aprirli per cui portate pazienza mi devo disintossicare un attimino e ovviamente quando verrà fuori se sarà ancora content creator non lo so perché di solo l'andazza al momento non lo so comunque farò lo prenderò indipendentemente da o comunque se ce l'avrò ve lo porterò per cui tranquilli e niente dal tarfone tutto vi saluto ci vediamo se volete questo pomeriggio in due alle due in live sul canale viola sotto in descrizione trovate il link e niente ragazzi dal tarfone tutto buon pomeriggio spero che piano piano i vari le varie live che vi caricherò sopra su youtube giusto per non lasciarvi senza contenuti vi possano piacere interessare e dal tarfone tutto un salutone alla prossima ciao ciao